buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione spero che abbiate passato tutti quanti un buon ferragosto spero che abbiate mantenuto le distanze spero abbiate preso tutte le precauzioni come mascherina sanificazione degli ambienti e quant'altro scusate se sono quello ma ogni tanto ci vuole un grillo parlante ogni tanto bene io personalmente il mio ferragosto l'ho passato a casa tranquillo perché la salute è quella che è ma vabbè sorvoliamo ma spero per voi che non abbiate ancora posato la crema la crema solare perché bene occorrerà molta per questo nuovo video perché ci spostiamo nell'antico egitto quindi caldo torrido a non finire siamo visto che siamo già in tema e arriviamo e andiamo a trovare una penso che quella che per tutti sarà una vecchia conoscenza comunque diciamo un personaggio assai noto a tutti ovvero cleopatra ultima regina d'egitto famosa per essere stata una delle più grandi regine dell'antichità un abile stratega un cervello politico proprio che oggi secondo me ce lo possiamo solo sognare una donna che è stata è stata capace di attrarre a sé due dei più grandi uomini di potere della sua epoca famosissima soprattutto per la sua morte molto artistica va detto insomma un tra tutti i metodi di suicidio che mi sia mai capitato di vedere in tutte le biografie la storia che ho letto mi sa che quello di farsi mordere da un aspide sia proprio la maniera più pittoresca per togliersi la vita ma ci arriveremo non corriamo troppo i tempi come se già non fossimo tornati indietro di qualche di qualche secolo allora torniamo indietro e oggi sì per i prossimi due video ultimamente sto facendo dei video che sono proprio a coppia non so se avete notato non è stata una cosa proprio non voluta non lo so perché mi stanno uscendo questi questa struttura boh comunque vi parlerò non tanto di cleopatra solo in sé per sé perché penso che ci saranno su youtube un sacco di mille altri video dedicati a lei tra documentari youtuber molto bene molto più ferrati di me che racconteranno e sviscereranno la sua storia in maniera molto più chiara di quanto potrei fare fare mai io avete appena visto perché ma bensì vi parlerò più che altro della storia delle persone che ruotavano attorno a lei con più precisione alcuni membri della sua famiglia sì perché molti non sanno che cleopatra ebbe sia dei fratelli che delle sorelle e alcuni di loro soprattutto per quanto riguarda le sue sorelle hanno avuto una storia veramente molto interessante e hanno mostrato di essere se non proprio alla stessa altezza del cervello governativo e combattivo della nostra cleopatra sicuramente hanno potuto veramente dimostrare di avere anche loro una grande forza d'animo una certa fermezza e una certa predisposizione al potere purtroppo varie vicende ovvero come ci da da quale parte della storia soffia il vento come uno si gioca le sue carte ebbene tutti questi elementi hanno segnato un po a sfavore di queste care nostre cleopatra sisters e hanno puntato i hanno gonfiato le vele del successo della nostra cleo ma andiamo con ordine e quindi oggi iniziamo con una bella lezione sulle sorelle di cleopatra berenice e arsino e quindi partiamo subito per il nostro nuovo viaggio allora prima di iniziare un piccolo excursus su la famiglia di cleopatra famiglia nel senso dinastico del termine allora lo so che siamo abituati a vedere cleopatra come l'ultima regina d'egitto l'ultima farà l'ultima dei faraoni ma in realtà cleopatra con i faraoni dell'egitto come li intendiamo noi quindi vari ramses tutankamon ascepsut che open effortiti aveva poco a che fare veramente pochissimo infatti quella tradizionale dinastia dei faraoni era ormai estinta da parecchio diciamo questi sono i tragici effetti dei matrimoni endogamici ragazzi se fondi un'intera dinastia reale puntando solamente sui matrimoni tra consanguinei non può rispettare certo che durino in eterno anche gli asburgo hanno insegnato qualche cosa da questo punto di vista allora e ormai con la classe governativa dei faraoni che ormai in declino segno l'arrivo anche del grande conquistatore del mondo ellenico del 300 avanti cristo ovvero il grande alessandro magno che conquistò tra tutte le terre conquistate inserì anche l'egitto che da qui poi deriva anche la fondazione della capitale della sua capitale della capitale del regno d'egitto chiamata alessandria una delle tante alessandrie che alessandro aveva deciso di fondare perché diciamocelo credersela non è mai abbastanza ebbene alla morte precoce di alessandro magno il suo regno fu diviso tra i suoi tre generali la porzione di quella che è di quello che era l'egitto se la più poi il suo generale tolomeo che dire così inizio alla dinastia omonima quella dei tolomei da cui discende la nostra cleopatra ebbene la dinastia dei tolomei decise quindi di instaurare il regno che doveva che sostituiva quello che fino ad ora era stato il regno dei faraoni d'egitto però prende un regno culturalmente puntato molto alla cultura greco ellenica infatti tutti i membri della dinastia tolemaica parlarono sempre solo in greco e portarono avanti soltanto la cultura ellenistica diciamo che la lingua egizia era definita una lingua bassa popolare quindi troppo al di sotto di loro per poter essere anche solo degnata di una pur minima considerazione dettaglio importante tenete la mente questo questo dettaglio è che non ve l'ho buttato così giusto per allora e tra le altre cose però avevano deciso di copiare un poco alcune usanze degli antichi faraoni tipo il definirsi delle divinità scese in terra o almeno comunque delle emanazioni delle divinità scese in terra e in più non volendo mischiare il loro divino sangue reale non potevano certo sposarsi con i primi venuti e di conseguenza per mantenere bene il potere si sposavano anche loro tra consanguinei quindi tra matrimoni tra fratello e sorella ebbene manco a dirlo questa dinastia è durata per un buon 300 anni più o meno più anno meno lo so ragazzi qualcuno già si sta facendo due domande qualche riferimento al teono di spade insomma i conquistatori la dinastia loro che se la credono non considerano le usanze del popolo che governano si sposano tra consanguine si ragazzi i tolomei sono i targaryen ma questa parte qua questo riferimento me lo vorrei conservare per per il video successivo a questo dove ne parlerò in maniera più più ampia diciamo questi riferimenti targaryen comunque vi ho già buttato l'amo allora e tra le altre cose i nomi dei dei discendenti erano ridotti all'osso nel senso che tutti i maschi della famiglia si chiamavano tolomeo diversificati ognuno tramite un un patronimico oppure si salivano al trono con il loro titolo tipo tolomeo primo tolomeo secondo terzo quarto e via dicendo per le ragazze per le fanciulle di casa invece c'era una scelta un po più ampia diciamo loro avevano la bellezza di ben tre nomi da cui attingere ovvero cleopatra berenice e arsinoe e guarda caso oggi andremo a parlare proprio di una berenice una e un arsinoe oltre alla nostra cleopatra manco a farla apposta e poi ci abbiamo perché ecco qua arriviamo a un ennesimo tolomeo tolomeo dodicesimo del suo nome detto aulete ovvero suonatore di liuto questo tolomeo quindi potete immaginarvelo come una sorta di nostro imperatore nerone wannabe con la una grande sfegatata passione per la musica per l'arte queste cose qua bene questo tolomeo sposò ovviamente una sua sorella o comunque le poche fonti che ci sono giunte sì ragazzi perché ve lo dico le fonti per per questa per questo video per me sono veramente ridotte all'osso veramente non ho saputo quasi dove andarmene a cercare le notizie perché sono veramente sporadiche veramente minime pochissimo proprio veramente ma veramente poco è ma quel poco che abbiamo ce lo facciamo bastare poi giù a suon di teorie allora quindi sposò sua sorella o almeno le fonti ci dicono che fosse sua sorella poi chissà poteva essere una sorellastra una cugina anche una nipote diciamo tra loro l'importante è sposarsi in famiglia comunque sposo quindi questa sorella cleopatra detta trifena allora visto che già so che rischiamo di incorrere in molte confusioni con questi nomi che ritornano questo tolomeo aulete questa cleopatra trifena li chiameremo semplicemente papà tolomeo e mamma cleopatra così da non confondere troppo le idee allora papà tolomeo e mamma cleopatra ebbero una figlia cleopatra dite voi no 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 non è così semplice non è così scontato no ebbero una figlia femmina a cui fu dato il nome di berenice come una delle più grandi regine della dinastia tolemaica berenice seconda allora ebbene dopo questa berenice non vennero altri figli disgraziatamente secondo molto probabilmente papà tolomeo e mamma cleopatra le tentarono di tutte per di tutto per avere almeno un figlio maschio da affiancare a berenice ma niente non non andava il seme non è il seme non è forte per citare un vecchio detto sempre hashtag game of thrones allora e così allora papà tolomeo scelse di ricorrere al nuovo metodo ovvero la concubina e così otto anni dopo la nascita di berenice papà tolomeo ebbe da questa concubina un'altra figlia femmina la nostra cleopatra ebbene non sappiamo con esattezza se questa donna questa concubina chi fosse non ci viene riportato il suo nome e alcune fonti dicono che fosse una concubina greco macedone altri ancora e questo fu una teoria molto getton è una teoria molto gettonata e la stessa cleopatra la fece sua e la usò proprio per i suoi fini propagandistici quando si trattò di prendere il potere si dice che in realtà questa concubina fosse proprio un egiziana appartenente alla nobile casta sacerdotale quindi doppiamente importante un'unione fatto non solo con un egiziana ma addirittura con un esponente della del clero locale quindi proprio un'emanazione del divino proprio sbandierata proprio quindi diciamo ce lo è quasi vole quasi come se papà tolomeo avesse voluto dire ok sono questi figli che avrò non sono figli al di fuori del matrimonio però dai almeno sono emanazioni della nostra divinità della dea iside e a seguire dopo cleopatra vennero altri tre figli un'altra figlia femmina a cui venne dato il nome di arsinoe e due figli maschi finalmente tolomeo e tolomeo che per comodità chiameremo uno il piccolo tolomeo e l'altro mini tolomeo bene quindi famiglia a completo quindi papà tolomeo con mamma cleopatra e berenice e concubina che poi dopo aver fatto il suo compito probabilmente venne liquidata tranquillamente con gli altri figli cleopatra arsinoe il piccolo tolomeo e il mini tolomeo bene una bella famiglia felice una bella famiglia allargata modern family no consideriamo una cosa anche in quell'epoca il concetto di famiglia tradizionale non è proprio il concetto di famiglia che abbiamo tuttora già il fatto che si sposassero tra consanguinei vi dovrebbe far capire un sacco di cose ma non solo ci si tra i tolomei c'era questa abitudine non solo ci si sposava in famiglia ma ci si ammazzava in famiglia sì infatti è diciamo che le le discussioni le diatribe i tentativi di avvelenamento di omicidio vari così eccetera eccetera non mancavano assolutamente a maggior ragione se ci troviamo in questa situazione in cui da una parte abbiamo una parte una componente della famiglia legittima tra virgolette in questo caso mamma cleopatra con sua figlia berenice e dall'altro abbiamo i figli della concubina cleopatra arsinoe tolomeo e tolomeo e bene ma a parte i problemi in famiglia c'erano ben altri problemi ovvero da un punto ovvero anche la fa i tolomei come già i faraoni dell'edde di altra epoca stavano ormai decadendo anche perché come anche tutte le altre discendenze derivate dal dalla conquista ellenistica di alessandro magno perché più loro tramo più il loro sole tramontava più sorgeva un nuovo sole ovvero quello del dominio di roma capeggiato da quello che da già da un giovane condottiero molto a molto famoso diciamo mica corbezzoli ovvero giulio cesare che a mano a mano stava estendendo sempre più i domini di roma su tutto il mediterraneo e anche l'egitto stava per diventare stava a tanto così da diventare una provincia romana ma a molti indipendentisti chiamiamoli così da molti nazionalisti egiziani questo non andava molto giù a farne un po le spese in questi trambusti in famiglia fu proprio il povero papato lomeo che fu costretto a scappare ormai quasi ridotto in miseria e a chiedere aiuto proprio ai nuovi dominatori di turno i romani e qui e da qui inizia veramente la storia vera e propria che voglio raccontarvi perché da qui emerge berenice la sorella maggiore di creopatra ebbene mentre papato lomeo probabilmente con una parte dei suoi figli o chi lo sa non sappiamo se con tutti i figli di secondo letto quindi creopatra arsino e i due piccoli tolomei mentre lui fuggiva dall'egitto chiedendo aiuto proprio ai romani mamma creopatra e berenice prendevano il potere siamo nel nell'anno nel 58 avanti cristo anno più anno meno ebbene berenice dopo aver scalzato il padre dal trono si autoproclamò regina d'egitto con il nome di berenice quarta e ad affiancarla c'era sua madre mamma creopatra e governa le due donne mamma e figlia governarono insieme per un anno quando mamma creopatra morì allora non sappiamo bene se morì di morte naturale o se fu diciamo a diciamo fu aiutata a morire dalla figlia ve l'ho detto ragazzi con i tolomei non si può proprio mai sapere quindi fatto sta che un anno dopo aver preso il potere mamma creopatra morì lasciando la sola berenice come unica sovrana e se da una parte lei aveva guadagnato il favore popolare perché diciamocelo il regno d'egitto tra una regina attaccata alle che difendeva i confini egiziani e un ex re fuggito che chiedeva aiuto a dei possibili invasori e dominatori beh ovvio che la fedeltà andava tutta quanta alla regina che difendeva che di chiedeva difendeva i confini chiudeva i porti e quant'altro però ovviamente c'era un problema berenice non poteva certo governare da sola anche se era una regina tutta ad un pezzo come possiamo ben notare non siamo ancora in un'epoca in cui una donna poteva essere vista governare da sola la stessa creopatra ne fu consapevole infatti per tutta la sua esistenza si fece sempre affiancare da una figura maschile poi lasciando stare che comunque era lei che governava bene possiamo dire che la nostra creopatra prese un po di insegnamento da quello che fece sua sorella berenice che infatti capendo questo decise di prendere marito per sopperire a questa problematica e decise di sposare un esponente di un'altra dinastia che risaliva da uno degli altri generali di alessandro magno ovvero la dinastia se le ucida se le ucida non so come si pronunci comunque sposò seleuco settimo della dinastia se le ucide se le ucida se le ucade vabbè abbiamo capito purtroppo per lei non fu una bella scelta perché anche questa dinastia era ormai in decadimento anzi sta forse messa peggio dei tolomei avendo capito che purtroppo non aveva puntato su un cavallo sbagliato quando dopo che papà tolomeo iniziò a bussare di nuovo alla porta di casa con dietro un esercito romano a cui aveva promesso ampio sostegno aveva promesso la fedeltà dell'egitto e aveva gettato le basi per quelli che sarebbero stati gli accordi che avrebbero reso l'egitto il granaio di roma avendo capito la nostra berenice che le cose rischiavano di mettersi male e che doveva puntare su un sostegno militare ben forte dopo aver vagliato quale potesse essere un secondo marito ideale suo marito seleuco morì di nuovo di morte morì ucciso di morì ucciso di morte naturale diciamo così e poco dopo la nostra berenice sposò in seconde nozze archelao gran sacerdote di bellona ed esponente della nobiltà cap della cassa sacerdotale nobiliare della cappadocia che le portava dietro un buon sostegno militare purtroppo però il diciamo che l'esercito della cappadocia non potere molto contro l'esercito di tolomeo inrobustito dall'esercito romano e archelao venne ucciso in battaglia l'esercito venne proprio spazzato via e la nostra berenice si ritrovò si ritrovò diciamo con il sedere nel fango per usare un termine il più corretto possibile il più realista possibile e beh noi possiamo pensare che magari il padre la rimbrottò e comunque capendo comunque che era sempre sua figlia decise semplicemente di condannarla in prigione di tenerla rinchiusa nelle sue stanze come avrebbe fatto qualunque padre ragazzi ve lo ripeto non siamo nella famiglia tradizionale moderna appena ripreso il potere grazie all'aiuto dei romani papa tolomeo prese la figlia la detronizzò e la fece giustiziare pubblicamente quindi possiamo dire ciao ciao alla nostra berenice che beh diciamocelo ragazzi era riuscita a tenere il regno per ben tre anni da sola non è proprio non proprio non è stato un lavoro da non da poco diciamo ce l'ho vista l'epoca in cui ci troviamo e secondo me a meno per come la vedo io la giovane creopatra che all'epoca doveva avere sui 13 anni 13 14 anni fu sicuramente un ottimo banco di insegnamento in cui lei capì veramente come poteva aggiustarsi una donna per ottenere il potere su quali punti poteva puntare per ottenere alleati e soprattutto quali erano gli errori che lei non avrebbe mai dovuto fare e fu degli insegnamenti che fu sicuramente un insegnamento molto importante come vedremo in seguito e cleopatra quanto pare non solo ebbe l'esempio della sorella ormai della ormai defunta sorellastra ma poteva anche puntare a a un allenamento sul campo infatti morto rimasto vedovo avendo eliminato la figlia maggiore papà tolomeo decise di affiancarsi in una sorta di unione simbolica con la nuova primogenita ovvero cleopatra e così la giovanissima cleopatra in che già era la cervellona della famiglia sappiamo che lei fin da giovanissima era molto portata per lo studio passava molto del suo tempo a studiare in quella che era la culla del sapere proprio la biblioteca la famosissima biblioteca d'alessandria e oltre al museo di alessandria una sorta di università antelitteram ebbene e già con questo già con questa sua buona predisposizione questa sua gran cervello che come una spugna assimilava tutto ciò che le capitava intorno la giovane cleopatra iniziò a ferrarsi anche con il potere sicura che papà tolomeo la stesse diciamo educando a il futuro ruolo di comando e dopo poco quando anche papà tolomeo venne a mancare cleopatra già si spregava le mani perché pensava di poter avere il pieno potere il pieno controllo su tutto invece no dovette sposare secondo le doti le note testamentarie del padre suo fratello il suo fratellino il piccolo che noi chiamiamo il piccolo tolomeo un bambino che all'epoca aveva giusto dieci anni potete immaginare la gioia della nostra cleopatra che si vedeva affiancata dal dal piccolo tolomeo ma quel che peggio non era tanto il piccolo tolomeo forse è stato solo lui magari poteva essere già essendo un bambino poteva essere piuttosto manovrabile il problema era i consiglieri che il piccolo tolomeo si portava dietro ovvero il leunuco il famigerato eunuco potino il suo precettore teodoto e il generale del suo esercito achillas questa triade malefica diciamo ma nemmeno tanto poi dipende sempre dal punto di vista di come vediamolo dall'ottica del della storia dei componenti di questa storia ebbene loro decisero questi tre di diciamo governare intanto che il piccolo tolomeo cresceva però fecero i conti senza l'oste o meglio fecero i conti senza lo stessa e lo stessa in questo caso è cleopatra che dava non poco di filo da torcere ai tre alla fine cleopatra fu costretta dalle forze congiunte di questi tre di questi tre consiglieri del fratello marito il piccolo tolomeo adesso diventato tolomeo tredicesimo fu costretta a fuggire proprio nel mentre che a roma si stavano svolgendo certi sviluppi come la guerra tra cesare e pompeo ebbene da qui ci sono ci sono un po alcuni accadimenti che avrebbero appunto apportato alla guerra civile alessandrina nella quale sia cleopatra che il famoso giulio cesare avrebbero assurdo un ruolo importante ma non solo loro anche quella che al momento è la dimenticata della famiglia ovvero la sorella minore di cleopatra arsinoe ma ci arriveremo presto ebbene durante la guerra dopo una torniamo alla guerra tra pompeo e cesare dopo essere stato sconfitto sul campo pompeo chiese asilo al piccolo tolomeo il piccolo tolomeo su consiglio dei suoi tre consiglieri su consiglio dei suoi tre consiglieri bene bravo lusio perfettamente ottimo lavoro di ridondanza ok lasciamo stare allora chiese asilo e sostegno militare al piccolo tolomeo che glielo accordò sempre sul consiglio dei suoi consiglieri però purtroppo sempre sul consiglio dei suoi tre consiglieri scusate sempre la ridondanza il piccolo tolomeo fece un errore veramente un gravissimo errore infatti non appena pompeo sicuro di essere ormai in salvo approdò in alessandria venne zacre zacre decapitato da dal suo ordine dell'eunuco potino del precettore teodoto e del generale achillas sempre però che usavano la piccola marionetta umana che era il piccolo tolomeo sicuri di poter fare un favore a quello che è ormai il vincitore della della situazione ovvero cesare e infatti quando cesare arrivò ad alessandria d'egitto il piccolo tolomeo decise di dargli come dono in segno di di fedeltà la testa di pompeo cesare ovviamente non la prese per niente bene infatti certo in un certo qual modo doveva essere contento di essersi tolto di mezzo il suo eterno rivale però da una parte sapeva che mostrarsi felice di questo non avrebbe fatto bene alla diciamo alla sua pubblicità in patria a roma e quindi decise di giocare sulla fedeltà romana e decise di non passare sopra all'omicidio di questo di questa grande personalità della repubblica romana e di conseguenza gli rapporti si fecero parecchio ma parecchio tesi ed è qui che rientra in scena cleopatra che essendo fuggita e nascosta per evitare che i sicari di potino la facessero fuori decise avendo capito bene da dove stava che come stava aspirando il vento perché è sempre questione di dove espira il vento in questa storia come avete già capito ritornò ad alessandria la leggenda vuole avvolta in un tappeto in realtà molto probabilmente in un in un sacco che veniva usato per portare i tappeti e si presentò in segreto in queste circostanze molto rocambolesche molto romanzesche a giulio cesare lui ormai era un uomo maturo bello maturo su già sui 50 anni lei invece era una fanciuta nel pieno della della nel pieno della giovinezza doveva essere sui 17 18 anni diciamo massimo 19 e bene era secondo le ricostruzioni che sono state fatte di recente prendendo a modello le figi fatte da lei sulle sue monete alcuni busti giunti fino a noi pur non rientrando nelle belle in una bellezza canonica era sicuramente un tipo molto fascinoso e soprattutto doveva avere un carisma eccezionale una grande intelligenza come abbiamo già come vi ho già detto ma quel che più conta lei portava a cesare l'alleanza dell'egitto e cesare aveva capito che poteva contare molto su sul sostegno di un egitto retto principalmente da cleopatra che da buona figlia di suo padre sapeva bene come lavorare per fare in modo che l'egitto avesse diciamo non venisse depauperato delle sue ricchezze ma al contempo comunque mostrandosi come una degna alleata del del di roma e un po così lavorando un po di seduzione lavorando un po con qualche maneggio con qualche promessa cleopatra riuscì a ritagliarsi la sua alleanza con cesare questo segnò la fine non tanto del piccolo tolomeo quanto dei del po quanto del potere dei dei tre dei tre demoniaci consiglieri ovvero di potino teodoto e achillas e da qui però ma le cose iniziarono veramente a mettersi male da un punto di vista bellico diciamo diciamo che la pace finì subito infatti come vi avevo detto all'egitto non è che piaceva molto l'idea di essere di diventare una provincia di roma e facendo leva su questo con l'ultimo spiraio di di capacità di intenti che ancora avevano i tre consiglieri decisero di rispondere subito all'azione e così potino mandò il generale achillas a dirigere le forze a guidare le forze militari affinché assediassero alessandria perché per scacciare l'esercito di cesare con i romani e tutto e magari togliere definitivamente di mezzo una volta per tutte cleopatra che era stata reinserita al suo ruolo di regina assieme al fratello marito il piccolo tolomeo ed è da qui che emerge finalmente l'altra sorella ovvero arsino è personaggio che io trovo veramente molto affascinante mi dispiace che si trovi così poco su di lei allora arsino e arsino e facciamo un piccolo preambolo su arsino e allora arsino e rimane quasi sempre sullo sfondo durante tutte queste vicende fino ad ora narrate non sappiamo se anche lei si trovava assieme a papà tolomeo quando questi fu detronizzato dalla sua figlia da sua figlia berenice fu costretto a fuggire non sappiamo se invece come vogliono alcuni fosse rimasta assieme al ai fratelli più piccoli ai due tolomei sotto il regno della sorella berenice quindi non sappiamo quanto fu anche lei testimone della salita e della caduta della sorella berenice probabilmente anche lei come cleopatra doveva essere una che sapeva il fatto suo infatti da questo punto di vista vi ho notato e non so se avete notato anche voi c'è molta più presa d'azione da parte delle donne di casa tolomeo piuttosto che dai che dai che dai piccoli tolomei va bene che alla fine rimangono comunque dei dei bambini diciamo in un certo qual modo ma nemmeno tanto perché alla fine comunque anche loro almeno il piccolo tolomeo al momento doveva essere sui 13 14 anni quindi più o meno l'età che aveva cleopatra quando ha iniziato ad essere correggente assieme al padre ma vabbè scusate queste sono le mie pippe mentali sul momento per capire un poco probabilmente chi lo sa forse hanno un po anche gli effetti dei matrimoni tra consanguinei boh chi lo sa no però aspetta non c'entra niente perché i piccoli tolomei non erano neanche figli di consanguinei ah però sì il padre doveva essere a sua volta figlio di consanguinei scusate ragazzi me ne sono partito per la tangente a macchinetta quindi ricomponiamoci ritorniamo alla nostra arsino e la troppo dimenticata arsino e ebbene quindi non sappiamo quasi niente di lei su di lei si può solo speculare sui sui primi anni di vita fatto sta che alla fine lei inizia ad emergere proprio con lo scoppio della guerra civile alessandrina che parte proprio quando achillas viene mandato a comandare gli eserciti affinché vengano sconfitti e scacciati i romani cesare e cleopatra vengano liquidati e il piccolo tolomeo venga ristabilito al ruolo che gli compete non più come semplice burattino nelle mani di roma ma come vero e proprio sovrano legittimo d'egitto ed è qui che arsino e inizia a farsi un po due calcoli avendo capito che cleopatra sta puntando star puntando a un'alleanza con roma arsino e come già tece berenice a suo tempo decise di puntare al nazionalismo total egizia total egiziano e dalla sua magari aveva un elemento che magari a berenice mancava ovvero il fatto che arsino e come già anche sua sorella cleopatra era per metà proprio egiziana essendo figlia di una probabilmente una siamo sempre nel campo delle teorie una sacerdotessa di iside probabilmente e facendo leva su questo probabilmente giocò molto su questo quando dopo essere fuggita da palazzo nel quale era rimasta rinchiusa assieme agli altri due fratelli al piccolo tolomeo e al mini tolomeo dopo essere fuggita nottetempo dal palazzo si unì all'esercito comandato da achillas e si fece leggere come regina dell'egitto come con il nome di arsino e quarta da contrapporsi alla traditrice cleopatra settima nel mentre il primo dei tre consiglieri ci lasciò le penne infatti quando potino venne scoperto che quando cesare scoprì che potino stava mandando lettere ad achillas per informarlo su sui spostamenti militari venne fatto da venne fatto uccidere fuori uno e nel mentre quindi accadevano questi fatti arsino e riuscì a fuggire da palazzo grazie all'aiuto di un eunuco un altro di nome ganimede e si unì all'esercito di achillas e facendo leva su le sue origini e soprattutto sul sulla svendita dell'egitto da parte di cleopatra si fece leggere regina col nome di arsino e quarta sperando che dopo che sperando se l'esercito fosse riuscito a sconfiggere roma avrebbero potuto togliere di mezzo cleopatra e lei sarebbe subentrata come regina consorte del fratello però purtroppo le cose iniziarono veramente male infatti sia arsino e che il generale achillas si trovarono subito in disaccordo su molti punti militari e arsino e fece valere i suoi voleri in quanto nuova sovrana d'egitto fino a prova contraria e fece decapitare achillas e lo sostituì con leunuco che l'aveva aiutato a fuggire ovvero ganimede e va detto sebbene gli inizi furono parecchi furono piuttosto a favore degli egiziani infatti con la flotta serraiata la flotta egizia che bloccava gli arrivi dei rifornimenti da roma loro che tagliarono ogni possibilità per alessandria di recuperare non solo cibo ma anche acqua rendendo salati i pozzi però da questo punto di vista cesare li gabò perché fece scavare nuovi ponti quindi la fece proprio un dito meglio puntato contro ecco alla fine però purtroppo le cose iniziarono a mettersi male per arsino e infatti gli egiziani iniziarono a stancarsi del governo piuttosto tirannico di arsino e di ganimede e di conseguenza promisero ai romani di consegnarli entrambi come prigionieri in cambio della liberazione del piccolo tolomeo cesare ha consentì sperando sarebbe servito a far finire questa guerra civile però purtroppo anche lui fece i conti senza i conti senza l'oste e appena il piccolo tolomeo fu lasciato libero fu lui si riunì all'esercito egiziano mise momentaneamente da parte la povera sorella la povera arsinoe e iniziò a guidare lui stesso la lotta contro contro i romani purtroppo le cose non andarono come lui sperava e durante la batteria del nilo all'inizio del 47 avanti cristo gli egiziani vennero disastrosamente sconfitti dall'esercito romano che si era unito agli eserciti di dimitridate e dei giudei di erode antipatro e durante la fuga che ne conseguì durante i fuggi fuggi generale il piccolo tolomeo cadde in acqua e appesantito dall'armatura d'oro che indossava morì e finisce così la guerra civile alessandrina con il piccolo tolomeo morto annegato e arsinoe che venne fatta prigioniera da cesare e da una vittoriosa cleopatria che intanto stava portando nel grembo il figlio che aveva dato a cesare il futuro cesarione ebbene per arsinoe ormai ex arsinoe quarta ormai non restava altro da fare che la sfilata della degli sconfitti infatti per celebrare la vittoria dell'esercito romano sull'esercito egiziano e la l'unione l'alleanza di dell'egitto di cleopatria settima adesso unitasi all'ultimo fratello minore che l'era rimasto vero mini tolomeo molto simbolica stavolta cleopatria era l'indiscussa sovranna di tutto e di tutti di tutta cosa per dirlo francamente e durante i festeggiamenti che ne conseguirono alla quale durante i festeggiamenti dopo che il rientro a roma di cesare durante la marcia degli sconfitti tra i prigionieri spiccava fra tutti arsinoe e sebbene se all'inizio lei venne fischiata e offese in quanto una straniera che si era opposta al potere di roma lasciò impressionati molti molte personalità di roma per il suo per la dignità con la quale sfilò con le catene ai piedi in mezzo a tanti uomini con il volto chino lei era l'unica a tenere la testa alta e fece un come vi ho detto non poca impressione tant'è che a seguito delle proteste che sorsero a gran voce dopo quello spettacolo cesare fu costretto a risparmiarle la prigione trasgredendo un po' a quelli che erano i voleri di cleopatria che avrebbe voluto la sorella non tanto imprigionata quanto morta per evitare qualsiasi problema futuro ma cesare per diciamo per questioni più che altro di pubblicità decise di mostrarsi umano e un civile romano e graziò in un certo qual modo arsinoe però la esiliò ad efeso dove lei venne dove venne rinchiusa nel famoso nel famoso tempio di artemide una delle delle sette meraviglie del mondo antico dove rimase a languire per un quasi cinque anni totalmente sembra in silenzio a leccarsi le ferite in un certo qual modo però a quanto pare non si era data molto per vinta infatti secondo quanto riferiscono alcune fonti tra i quali anche alcune spie sguinzagliate da cleopatra perché affinché tenessero d'occhio arsinoe ebbene lei iniziò a a farsi chiamare non si sa se era lei che si faceva chiamare così o erano le persone che le gravitavano attorno a chiamarla in questo modo ma a chiamarla piccola regina o reginetta dando così l'idea che lei stesse radunando piano piano le forze per riscontrarsi di nuovo con la sorella questo avvenne quando dopo intanto che succedevano queste cose mentre arsinoe languiva nel tempio di artemide a efeso la storia continuava come noi la conosciamo a cesare che stava premendo per abbattere la repubblica instaurare l'impero venne ucciso alle iti di marzo cleopatra vissasi privata del suo sostegno all'epoca anche lei si trovava a roma vissasi privata del suo sostegno fu costretta a riparare di nuovo ad alessandria a raccogliere le forze e intanto roma venne dilaniata dalla guerra civile tra il partito degli ottaviani capeggiati dall'erede di cesare ovvero il suo nipote il suo figlio acquisito il nipote ottaviano e il l'amico di il l'amico di uno dei più grandi dei più stretti amici di cesare marco antonio futuro amante di cleopatra contraposti a bruto e cassio a capo i capi dei cesaricidi ebbene proprio in questo frangente arsino e a quanto pare segnò la sua sorte infatti lei ebbe la brutta pensata puntando sempre sul cavallo sbagliato di promettere la sua alleanza a cassio promettendogli sostegno qualora ne avessero avuto bisogno e se tutto fosse se diciamo il vento della vittoria avesse soffiato dalla parte dei dei cesaricidi nel mentre i cesariani o ottaviani come vogliamo chiamarlo i cesariani chiamiamoli così chiesevano l'aiuto di cleopatra che un po per varie questioni glielo promise però purtroppo a causa di una tempesta non poter non l'esercito che la flotta che lei aveva promesso ai cesariani non poter raggiungerli ma alla fine con o senza la presenza delle due sorelle d'egitto di cleopatra e di arsinoe la storia decise a favore dei cesariani brutto e cassio si suicidarono dopo aver visto la sconfitta e ottaviano e marco antonio erano vittoriosi e assieme all'epido formarono il secondo triumvirato con marco antonio che si prese i domini dell'egitto segnando così il suo avvicinarsi a cleopatra e proprio da questo avvicinarsi sappiamo tutti cosa mi sarebbe derivato e in più ciò segnò anche il destino finale di arsinoe come vi ho detto il fatto che arsinoe avesse strizzato un po troppo l'occhio ai cesaricidi fu un po' una firma su una condanna a morte e infatti approfittando della sua nuova alleanza con marco antonio cleopatra chiese a quest'ultimo un pegno di fedeltà in cambio della fedeltà di un'ulteriore fedeltà dell'egitto nei confronti di roma che rischiava di essere minato dal fatto che lei pur avendo promesso di dare loro una flotta in sostegno non li aveva mandata quindi prometteva un ulteriore sostegno a roma in particolare alla roma di marco antonio in cambio però della vita di arsinoe arsinoe tecnicamente era in un tempio era esiliata in un luogo sacro diciamo vivere in un tempio all'epoca doveva essere l'equivalente del vivere in un luogo sacro per farvi un'idea ragazzi il globo di notre dame diritto d'asilo diritto d'asilo ecco più o meno più o meno il ragionamento è quello qui risultava diciamo un'impresa sacrilega spargere diciamo diciamo strappare una persona da un luogo sacro dove tecnicamente aveva cercato rifugio e ucciderla ma diciamo che marco antonio era tipo che si faceva pochi scrupoli come anche cleopatra per la quale il potere aveva una sua importanza maggioritaria rispetto alla famiglia tant'è che all'epoca era anche rimasta vedova dell'ultimo fratellino rimasto ovvero mini tolomeo morto a quanto pare durante un'epidemia di peste ad alessandria ma secondo alcuni probabilmente fatto uccidere perché crescendo stava iniziando ad alzare un po troppo la cresta per cui arsinoe era diciamo l'ultimo nome della lista da depennare per cleopatra che intanto si era affiancata sempre in maniera simbolica al giovanissimo figlio avuto da cesare appunto cesarione questo per farvi capire sempre quanto comunque cleopatra fosse molto accorta anche nella gestione del potere e nel mantenimento di certe configurazioni del potere come appunto l'essere affiancata sempre da una figura maschile allora e quindi con la nuova alleanza con marco antonio chiese in cambio la la testa di sua sorella arsinoe e così uscì di scena anche arsinoe lei venne visto che i romani non potevano spargere sangue sull'uovo sacro del tempio la trascinarono letteralmente via a forza dal tempio di artemide e la uccisero non a quanto pare non venne decapitata per affinché la sua testa venisse portata cleopatra ma venne direttamente sepolta stesso ad efeso e a quanto pare dopo aver trovato una una tomba a proprio ad efeso una in una sorta di mausoleo dove sono stati trovati i resti di una fanciulla tra i 18 e i 20 anni a quanto pare e arsinoe all'epoca in cui venne uccisa aveva 27 anni per molti è stato definita la tomba di arsinoe molti storici e molti studiosi non sono concordi su questa identificazione ma fatto sta che se veramente si trattasse se veramente questa fosse la tomba di arsinoe con tanto di salma lì suo sarebbe l'unica tomba della dinastia dei tolomei ad essere giunta fino ai giorni nostri infatti nemmeno cleopatra è stata la tomba di cleopatra è stata ritrovata fino ad ora e così con la morte tragica di arsinoe si conclude anche questa vicenda su delle delle sorelle anche un po dei fratelli di cleopatra di cleopatra poi sappiamo come andò a finire il suo tentativo assieme a marco antonio di eliminare ottaviano e instaurare un regno che già era nell'aria comunque l'idea l'idea voluta da da cesare di soppianta di sostituire il vecchio con nuovo il vecchio ordinamento con il nuovo ovvero collocare un impero romano al posto della repubblica romana il tentativo di renderlo una sorta di impero con un certo faro anche in oriente con il regno d'egitto quindi la creazione di un regno tutto quanto loro dove cleopatra e marco antonio avrebbero governato indiscussi la loro sconfitta ad azio e il trionfo di ottaviano e la morte di marco antonio e di cleopatra ma su questo punto mi riserverò di parlarne nel prossimo video dove affronterò non solo i collegamenti come vi ho detto tra i tolomei e i targaryen del mondo del ghiaccio e del fuoco ma anche sul mistero che alleggia attorno alla morte di cleopatra per cui e adesso un po di cultura generale sulle figure di di berenice e di arsino e allora come vi ho detto già inizio video le fonti sono parecchio scarse anche sono molto dubbie su alcuni punti e già su di loro purtroppo si trova veramente ma veramente poco almeno nella bibliografia made in italy mi sa che qualche testo straniero almeno su arsino e sia pure facile si possa anche trovare ma è molto difficile il che è un peccato perché comunque come avete notato anche berenice e arsino e a loro modo sono state protagoniste nelle loro storie purtroppo però ha giocato contro di loro il fatto che abbiano puntato su cavalli sbagliati abbiano fatto scelte azzardate non abbiano potuto seguire bene l'onda del momento non hanno diciamo giocato molto di di senso politico come fece cleopatra che seppe giocare molto sulle sue alleanze e soprattutto sui suoi cavalli vincenti cosa che purtroppo né berenice né arsino e furono in grado di fare per quanto riguarda quindi le fonti su di loro alla fine io mi baso principalmente su una mia recente lettura ovvero cleopatra la regina che sfidò roma e conquistò l'eternità di alberto angela testo attuale che purtroppo su berenice arsino è molto diciamo non si non dedica molti paragrafi e beh questa è una mia lettura di infanzia magari qualcuno di voi potrebbe ridere se ve la mostro però diciamo che la mia è un po partita da qui diciamo questo è un piccolo elemento di quelli che quando ero piccolo mi hanno spinto a interessarmi molto alla storia ovvero cleopatra e il suo aspide di margaret simpson edizione morto che parla o le biografie dei morti dei famosi da morire ovvero queste sorte di brutte storie tra virgolette su in chiave molto ironica su vari personaggi della storia ma anche nel mondo della scienza e della letteratura e dell'arte io oltre a questo su creopatra ho anche elisabetta prima e le sue conquiste e leonardo da vinci e il suo mega cervello poi so che ce ne sono vari altri tipo a isaac newton e la sua mela rohan dal e la sua fabbrica di cioccolato eccetera eccetera e devo dire alcuni sono ancora trovabili però beh non so se sono fuori catalogo però penso che se si si sforza un po si possono magari trovare io ve lo consiglio sono letture per l'infanzia principalmente però possono essere letti anche da da qualcuno che da anche dagli adulti che vogliono informarsi perché comunque è molto molto completo anche da un punto di vista per quanto riguarda la storia di berenice di arsino e qua è molto molto è completo l'unica cosa qua dice che cleopatra trifena ovvero mamma cleopatra era una figlia maggiore di papà tolomero errore errore blu l'ho capito solo in seguito che era un errore bene quindi e questo mi è anche servito molto per la vita di berenice e la vita di arsino e oltre che dei due piccoli tolomei bene e per quanto riguarda i film beh i film purtroppo li hanno sempre nonostante la filmografia su cleopatra sia ampia enorme quasi innumerevole non parla quasi mai non parla quasi per niente di berenice di arsino e ma nemmeno di mini tolomeo ovvero il tolomeo più piccolo è già tanto se parla ogni tanto del piccolo tolomeo ma solo per creare il collegamento con la storia iniziale con cesare cleopatra e la guerra civile alessandrina ma per il resto non se ne parla quasi mai l'unico film in cui si parla di arsino e almeno di lei è una miniserie televisiva del 1999 su cleopatra con timothy dalton nel ruolo nel ruolo di giulio cesare e dove arsino e compare però in un ruolo molto ridotto infatti lei viene la sua storia viene molto ridotta si vede che lei partecipa attivamente alla guerra civile alessandrina per il nome del fratello il piccolo tolomeo viene vengono sconfitti il piccolo tolomeo muore e lei viene imprigionata e stesso in prigione viene fatta strangolare su ordine di cleopatra non non come invece accade nella storia vera dove venne prima fatta marciare come prigioniera a rome poi venne esiliata ad efeso diciamo che la storia qui in questa miniserie viene molto abbreviata però è l'unico riferimento cinematografico su arsino e o comunque su una delle sorelle di cleopatra in generale con il tipico titolo della newton compton ovvero il segreto di cleopatra titolo che non c'entra assolutamente un cavolo un bip non c'entra un bip con il romanzo in sé per sé comunque devo ancora leggerlo quel libro ma conto di di leggerlo in futuro quando l'avrò letto vi farò sicuramente una recensione bene e niente con questo chiudo questo libro e è questo libro scusate bene concludo qui il video e vi rimando ad un prossimo appuntamento al prossimo appuntamento alla prossima video lezione in cui vi parlerò del mistero attorno alla morte di cleopatra intanto il video lo concludo qui quindi spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate e ditemi la vostra se anche voi conoscevate le vicende di berenice di arsino e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao